buonasera a tutti amici questo video è dedicato ai sapintoni agli einstein su youtube perché ce ne sono ce ne sono guarda faccio i capelli faccio il video con i capelli pure appositamente come un matto vedete questo ti deve dimostrare qualcosa simbolicamente caro einstein di youtube questo vuol dimostrare che non conta tanto l'aspetto ma devi andare nel nocciolo deve entrare dentro le persone quindi come ti permetti tu a voler giudicare un personaggio parla adesso di me leo definendolo un ignorante e altri invece che sbattono sul cellulare il pugno e vogliono assicurarti che loro sappiano tantissimo che siano istruitissimi insomma che questi personaggi ne sappiano più di me ma chi te lo dice ma chi te lo dice chi te lo dice cioè non è quello ricordati una cosa caro tastiera da leone ricordati innanzitutto che io ho aperto questo canale per la passione che ho per il calcio e per il milan e quindi è una squadra italiana non mi va di parlare diciamo del milan in tedesco parte che amo l'italia mi sento italiano quindi era per me chiarissimo di dover diciamo di aprire caso mai parlassi di milan e di calcio di aprirlo in italiano il canale quindi quindi io ti ripeto a te per l'ennesima volta ma tanti già lo sanno quelli che mi seguono io sono nato in germania vi racconto veloce la storia sono nato in germania a un anno ci siamo trasferiti ho fatto l'asilo in italia la prima elementare avevo iniziato la seconda elementare poi ci siamo siamo di nuovo nuovamente ritornati qua ad hamburgo germania dove ho proseguito le scuole quindi ho avuto attorno l'ambiente tedesco perché alla fin dei conti solo in famiglia c'erano gli italiani non è che qua ad hamburgo era strapieno di italiani poi quelli italiani immaginerai gente anche come i miei genitori ma non è nulla di male che a quei tempi sono venuti qua perché non è che hanno fatto grandissime scuole cioè i miei genitori sono degli anni 50 sono nati non ti dirò adesso l'esatta data però inizio anni 50 quindi immaginati nel dopoguerra se tutti avevano la possibilità di poter studiare comunque sia e quindi da famiglia diciamo non istruita mettiamola così ma questo non vuol dire che i figli o che i genitori stessi siano dei scemi o che non abbiano cultura oggi come oggi è accessibile a tutti quindi basta avere la volontà e ti puoi fare la tua cultura non ho bisogno di certo un diploma per lo più nella maggior parte dei casi comprato un diploma comprato come ce ne sono tantissimi in italia dove anche o se non sono comprati sono sì hai il diploma ma l'hai studiato per forzatura non per passione quindi la vera istruzione nasce da una passione come nel mio caso non è che io adesso sono un grande einstein ce ne sono molto meglio di me ma tu adesso vuoi perciò giudicare a me mi sembra proprio una cosa senza senso per lo più paragonando quel personaggio lì che sia un istruito ricordati questo stavo dicendo ricordati che quelli che sono veramente istruiti non si mettono di certo a dirti tu sei più ignorante di me già quando uno viene con questa frase vuol dire che non ha nessunissima istruzione non ha nessunissima cultura poi per lo più ci aggiungo di nuovo ritornando al tedesco che parlo ovviamente molto meglio il tedesco però mi sto impegnando tantissimo con l'italiano che è una lingua molto complicata anche in italia stesso non è che lo parlate tutti in maniera perfetta è molto complicato l'italiano specialmente se non l'hai avuto a scuola come vi ho detto tante volte non potete fare il paragone italiano spagnolo francese perché se tu parli l'italiano impari molto più facilmente lo spagnolo e il francese ma ti verrà più difficile il tedesco e l'inglese quindi dato che io ti sto dicendo che il tedesco è la lingua che diciamo che ho avuto a scuola e che parlo parlo meglio dell'italiano quindi puoi immaginarti che mi verranno più facile imparare delle lingue tipo inglese che si avvicinano al tedesco quindi mentre tu avrai molta difficoltà o avrai vabbè che l'inglese poi avete la fortuna diciamo che si impegna che una lingua abbastanza facile però capite il collegamento c'è la grammatica è un'altra grammatica per farti un esempio banale in tedesco per farti adesso un esempio così 17 in italiano tu dici 17 inizi col 10 e dici poi il 7 in tedesco è tutto il contrario tu dici 7 10 capito come funziona poi come anche qualcuno sapranno tramite il calcio tra pattoni quando fice l'intervista flash e lea in italiano lui l'ha tradotto dall'italiano al tedesco ma non puoi farlo perché in tedesco dice lea flash ossia lui ha detto bottiglia vuota ma in tedesco si dice vuota bottiglia quindi capirai che diciamo ho questi problemi qua perché io pure non è che ho aperto il canale sto andando a studiare in qualche scuola italiana no 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 diciamo mi sto mi guardo i video in italiano e apprendo così poi tantissime volte dato che io non ho non c'ho l'ambiente italiano che parlo sempre italiano io parlo nei video italiano poi ascolto tantissimo in italiano ma non è che poi parlo nel quotidiano con tantissima gente in italiano e quindi diciamo ciò come si dice mi rende anche difficile parlare l'italiano in maniera correttissima e poi questo stavo per dire riguardando i miei video anch'io stesso me ne accorgo dei miei errori che dico mannaggia potevo dire quella cosa meglio però vedi com'è non è che solo apprendendo diciamo ascoltando che si impara bisogna anche non è solo la teoria ci serve anche la pratica questa è anche una cosa che dovresti sapere che fa parte diciamo della cultura la cultura non è solo teo e teorica questo è quando voi vi prendete di play i diplomi che studiate perché dovete studiare senza passione poi ci vuole la pratica caro uomo di cultura niente questo è un video non per tutti ragazzi non è che mi è rivolto a tutti voi però certuni leoni di tastiera e caso mai ne dovreste inciampare in futuro in qualche leone da tastiera magari potrete proporre questo video qua quindi la cultura è ben altro poi sai come certe volte ci sono tantissime cose che si imparano nella vita poi magari ti viene difficile specialmente se non sei padrone della lingua come nel mio caso con l'italiano ti viene difficile a spiegare all'altro però sai quando tu una cosa l'hai appresa per te e non la sai poi spiegare o non sei bravo a riprodurla perché ripeto anche il limite della lingua ma sai quante cose io per i cazzi miei ma ovviamente non sto a dire che ne saprò più di te quante cose io ho appreso per i fatti miei a livello di storia a livello di religioni a livello di cultura di calcio perché ultimamente devo dirvi la verità ve l'ho detto già ultimamente il calcio pian piano non mi sta più appassionando come era una volta dove veramente sul calcio passato so tutto cioè potrei fare veramente il quiz non so in italiano come si chiama perché non guardo la televisione in italiano eh guardo le video su youtube qua si chiama via via milionea eh chi di chi diventi milionario chi diventa milionario sicuramente se ci sarebbe su sul calcio poi diciamo l'italiano ora non è per offendere che vi credete di avere una grande cultura in tanti parlo di quelli saccenti vi concentrate solo sull'italia che ha tantissima storia senza ombra di dubbio però non osate guardare fuori il bello della cultura anche guardare fuori le altre culture per capirle e non per avere solo il pregiudizio ma capire l'altro vedo poi sulla psicologia storia psicologia eh religioni ehm anche perché no spiritualità diciamo nel senso l'ignoto scoprire eh aprirsi mentalmente altre culture posti eh geografia eh tantissimi campi che mi appassionano e dove ho anche delle mie conoscenze e poi mi vieni tu a dire a uno che sbatte il pugno contro il cellulare e dice io ne capisco più di voi sono più istruito perché magari ha solo un campo dove è istruito nel suono del del corno tra l'altro dovresti saperlo se segui quindi i suoi video che i suoi genitori sono a sua volta dei musicisti quindi sarà stato anche un raccomandato un forzato a ciò quindi magari non con tutta quella passione diciamo in quel campo ne sa più di me a livello di musica ma poi gli mancano tutti gli altri campi e tu da questo deduci perché lui sbatte il pugno e ha quel diploma lì che lui sarebbe più acculturato di me ma che te lo dice questo era un discorso in generale e come stai vedendo lo sto facendo quei capelli tutto questo sai perché per provocare perché in italia conta più l'apparenza che l'essere e noi dobbiamo ritornare ad essere non ad apparire ad essere quindi c'è una differenza tra l'essere e l'apparire in italia avete questa mania dell'apparizione e quindi questo video è dedicato per voi e se noterai o diciamo rifletterai un pochettino ma non per autovantarmi però credo che il mio italiano è anzi abbastanza buono se si considera che io non abbia fatto le scuole in italia io credo che ci sono parecchi questo sicuramente non è adesso un vanto perché è tragico tra virgolette così perché non dovrebbe essere così ma ci sono tanti italiani che vivono in italia che non lo parlano magari così bene poi un'altra cosa ti voglio dire vedi sempre ritornando alla teoria e alla pratica teoreticamente se tu cominci pure a parlare un italiano tutto alto capisco tutto perché mi sono messo lì io alla ricerca col dizionario a sguardare il significato di ogni singola parola e ce ne sono parecchi ancora dove devo ma me li sono scritte quindi questo è diciamo sempre un problema di lingua e da lì tu vuoi dedurre che io non abbia una cultura ma la cultura non è solo quella che ti fai a scuola anzi tantissime cose nella scuola non insegnano ma ti inculcano perché vai su un pensiero mainstream invece per avere veramente cultura deve aprire gli orizzonti devi ascoltare ma quante cose ti potrei dire ascolta libri di jung platone filosofia adesso vedi ora sto facendo pure la figuraccia che ti rendo solo questo ma tanti altri guarda libri di storia apriti la mente questa è la cultura guarda anche fuori interessati per le altre culture ma com'è la cultura in sud america com'è la cultura in scandinavia come apri apri gli orizzonti come in india il perché capire i collegamenti l'essere umano capisci te la tua storia ma veramente non rimanere fermo lì all'apparenza o quello che c'è scritto nei libri vai più approfondire questa è cultura caro ignorantone per questo video è tutto un caro saluto dal vosso leo